Si conclude oggi il ciclo stagionale della nostra trasmissione di approfondimento i fatti e le opinioni in cui iniziamo appunto stasera ad accendere i riflettori sul 48esimo premio Flaiano che si terrà al teatro d'annunzio di Pescara il 3 e il 4 luglio. Come sempre entrambe le serate verranno trasmesse in diretta su Rete8. Nella trasmissione di anteprima in onda questa sera alle 21 e in replica domani alle 23.30 ci saranno tutte le anticipazioni sui premiati con il Pegasodoro con la partecipazione di alcuni dei protagonisti del premio e dei componenti delle giurie. Dunque da non perdere il weekend televisivo su Rete8 con le dirette dei premi Flaiano sabato e domenica anteprima questa sera alle 21 con replica domani alle 23.30.